Avete presente la sensazione di cadere in una sorta di buco nero di disperazione ogni volta che ci imbattiamo in una brutta notizia dopo l'altra, magari sui social? Fino a poco tempo fa si trattava, che ne so, dei bollettini del covid-19. Oggi per qualcuno potrebbero essere gli aggiornamenti sulle conseguenze del cambiamento climatico, o sul tasso di criminalità della propria città di residenza, o ancora il numero di attività simili alla propria che falliscono ogni anno, le prospettive di lavoro, di carriera, qualsiasi cosa. Ecco, quell'impulso a dover leggere tutto quello che troviamo su una cattiva notizia o su un tema particolarmente macabro o triste, è chiamato doomscrolling. Ed è pericolosissimo, non soltanto perché si mangia moltissimo del nostro tempo, diventando a tutti gli effetti una di quelle cause di procrastinazione di cui parlo anche nel mio nuovo videocorso sulla produttività personale, Progetto Pro, ma è pure dannoso anche per il nostro pensiero critico, per i livelli di stress che provoca e per il modo in cui influisce sul sonno. Ma facciamo un passo indietro. In un approfondimento interessante pubblicato nel 2021 sul World Economic Forum, che vi lascio in descrizione, la psicologa Ariane Ling spiega che questo termine, doomscrolling, ha preso piede proprio durante la pandemia, ma in realtà il fenomeno era già diffuso. Anche in Italia, tra l'altro, il fenomeno è stato trattato come un problema proprio sul fronte sanitario. La psicoterapeuta Elisa Morrone del centro Psycho Medical Care di Humanitas ne ha parlato in un articolo di approfondimento pubblicato proprio da Humanitas. E secondo la sua analisi, la pandemia avrebbe innescato un senso di precarietà che ci spinge a ritrovare un pochettino di controllo e rassicurazione tramite il monitoraggio delle notizie. In realtà si tratta di qualcosa che abbiamo sempre fatto, anche se in contesti diversi. Pensiamo a quante persone rallentano davanti a un incidente stradale per guardarlo, o a quella pratica assurda, pazzesca, di andare a visitare luoghi in cui si sono consumati crimini tremendi. Ma perché lo facciamo? Che cos'è che ci spinge? Uno studio tedesco del 2020 che analizzava la correlazione tra esposizione alle notizie riguardanti la pandemia e aumento dei livelli di ansia in 6.000 soggetti ha rivelato che la buona parte dei partecipanti era consapevole che il doomscrolling compromettesse il benessere mentale. Eppure nessuno di loro riusciva a smettere. La responsabilità possiamo attribuirla in parte alla nostra naturale e umana curiosità e in parte anche al momento storico che viviamo. L'accesso alle informazioni infatti è praticamente infinito, senza limiti, come mai prima d'ora. I dispositivi che abbiamo sempre con noi, i cellulari per esempio, richiedono attenzioni costanti e tutti i contenuti che consumiamo sono costruiti appositamente per agganciare il nostro interesse e tenerci inchiodati allo schermo. E questo funziona particolarmente bene con chi ha una vulnerabilità particolare ai disturbi d'ansia o tende a lasciarsi sopraffare dallo stress. Alla radice del doomscrolling c'è la ricerca di una conferma alle nostre paure. Il bias di conferma. Se abbiamo un'opinione o anche un'incertezza su un tema specifico, cercare notizie online a sostegno di quello che già pensiamo ci dà l'impressione di aver acquisito una conoscenza più completa e più solida sull'argomento. Ed è proprio così che agisce il bias di conferma, ne abbiamo parlato anche altre volte. E se questo, da un certo punto di vista, ci aiuta a gestire le cattive sensazioni, dandoci l'illusione di tenere tutto sotto controllo, è anche vero che innesca un meccanismo molto dannoso. Infatti, alla ricerca di conferme che secondo noi dovrebbe placare le nostre ansie, segue un loop infinito per cercare altre notizie, altre conferme, tutte simili alla prima, andando così a popolare la nostra immaginazione di tutti gli scenari più terribili in assoluto. Pensate per esempio alla percezione della criminalità intorno a noi. Se chiediamo alle persone per strada sembra che la criminalità sia sempre in aumento, le strade sempre più insicure, oddio che cosa sta accadendo? Ma le statistiche ci dicono qualcosa di differente. Ecco che quindi la percezione della realtà del pericolo e la realtà di quel pericolo non sempre coincidono. In questo caso a intervenire nel nostro comportamento è il bias di ancoraggio, che ci spinge a dare ancora più credito a quello che abbiamo già scoperto, cercando poi informazioni tutte simili tra loro. È così che finiamo per chiuderci in una bolla in cui non facciamo altro che scrollare e 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 scrollare ancora. Come se non bastasse, tutto questo meccanismo ci rende infinitamente più inclini ad accettare per vera ogni tipo di notizia che finisce nel calderone di quelle che confermano le posizioni di partenza o che le supportano, finendo dritti dritti nel giro infernale delle fake news e della manipolazione politica e sociale. Sembra un meccanismo complicatissimo da fermare, perché sembra che vada avanti quasi perinerzia si alimenta da solo. Eppure, durante la pandemia, quando questo comportamento è stato veramente portato all'estremo con l'aiuto pure dell'isolamento, gli psicologi hanno individuato una serie di strategie per contrastare il doomscrolling. Quindi, se vi capita, se ne siete soggetti, fate attenzione. Nel suo approfondimento la dottoressa Ling spiega che una volta presa consapevolezza di quel loop in cui si finisce, ci si comincia anche a domandare cos'altro si sarebbe potuto fare nelle ore perse a scrollare. Ed è proprio su questa domanda che dobbiamo focalizzarci, cercando di costruire una motivazione intrinseca che ci porti poi a scegliere di svolgere le attività che ci sono venute in mente, diminuendo gradualmente le ore di doomscrolling. Che cosa avrei potuto fare invece di fare questo? Una domanda preziosissima. Un altro consiglio è quello di considerare il controllo delle notizie come l'apertura della casella di posta elettronica. Non dobbiamo necessariamente leggere ogni aggiornamento in tempo reale. Possiamo ritagliarci una mezz'oretta ogni giorno per tenerci informati, anche un'oretta, senza lasciare che queste attività però prendano il sopravvento. E magari anche aspettare che passi un po' di tempo per avere una rappresentazione più accurata del fenomeno, della notizia, di quello che sta succedendo. Un po' di slow news invece che breaking news. Questo punto è fondamentale anche perché ci aiuterebbe a ridurre l'impatto del doomscrolling sul nostro sonno. Quando iniziamo a farlo di sera per esempio e finiamo nella nostra bolla di negatività e di autoconvincimento, fermarsi è difficilissimo e si va avanti quasi per inerzia, soprattutto se siamo particolarmente stanche o stanchi perché non abbiamo il giusto livello di allerta per renderci conto di quanto tempo stiamo perdendo. Si continua per ore per poi riemergere quando ormai notte fonda e il nostro ritmo circandiano è andato a farsi benedire. Un'altra informazione che mi ha colpito sul doomscrolling. Secondo gli psicologi che hanno analizzato il comportamento degli individui in isolamento durante la pandemia, il tempo medio trascorso a infilarsi nella testa brutte notizie era pari a quattro ore e mezza circa al giorno. Quattro ore e mezza in cui il cervello viene bombardato da parole e immagini stressanti, a volte spaventose. E il fenomeno è ancora sotto monitoraggio, perciò potrebbe anche essere in aumento. Pensate a quanto del nostro tempo finisce risucchiato in questa spirale di negatività e va poi a sommarsi a tutto il resto del tempo che perdiamo sui social network per le cazzate, i giochini e le discussioni online. Quanto tempo rubiamo alle attività che amiamo, magari allo studio o al lavoro, rimandando all'infinito quello che vorremmo fare in favore di qualcosa che ci rende quasi schiavi delle cattive notizie. Sembra retorica spicciola da due soldi, eppure è un semplice meccanismo nocivo per cercare di gestire l'ignoto. Peccato che finisca per innescare anche una procrastinazione senza fine e che abbassi i nostri generali livelli di motivazione. È un tema delicato questo, che mi sta a cuore ed è per questo che ho dedicato un intero modulo di Progetto Pro, il nostro nuovo corso, a discutere di quanto sia pericoloso finire in uno di questi loop di procrastinazione che alla base si assomigliano tutti e capire come fare per scardinarli e riprendere il controllo della nostra produttività. Quindi se la procrastinazione da doomscrolling o da qualsiasi altra fonte vi attanaglia, date un'occhiata a Progetto Pro perché potrebbe esservi utile. Ma ora veniamo a noi, anzi veniamo a voi. Voglio sentire le vostre esperienze. Per esempio, quali sono i temi che più vi spingono a starli a scrollare? Avete mai fatto una stima di quanto tempo vi ruba questa attività? E soprattutto, vi rendete conto di farlo? Attenzione perché la risposta non è così scontata. Fatemi sapere nei commenti. Ci rivediamo nel prossimo video. Grazie.